buongiorno ragazzi per chi volesse sostenere questo canale lo può fare gratis iscrivendosi con un semplice click ed attivando la campanellina ricordo che creare dei profili falsi eh è furto di identità ieri sera un legale ce l'ha detto quindi c'è anche i fai furti di identità su YouTube perché purtroppo c'è gente che si commenta il video da soli e si applaude da solo perché ormai solo quello può fare tra l'altro c'è questa grandissima fake news eh allucinante di persone che non sanno nemmeno fare una A con un bicchiere che parlano di pegni che parlano di visure camerali io volevo ricordare ragazzi a voi a quei pochi rimasti ancora seguite quelle cazzate che la visura camerale siccome noi abbiamo fatto tre controlli negli ultimi giorni abbiamo scaricato la visura camerale dell'Inter aggiornata ve lo spiego perché è giusto che lo sappiate anche se io penso che molti di voi chi segue questo canale ha sicuramente un paio di neuroni funzionanti mentre chi sente a Romaian l'Inter già fatto passaggio vuoto è fatto un mese fa quella gente secondo me eh ha un il primo neurone che dura fatica a a dare la mano al secondo neurone perché io vi voglio dire e sfido qualsiasi professionista in ascolto a smentire o a dire il contrario voglio dire una cosa seguimi la visura camerale dell'Inter in questo caso costituisce delle informazioni per chi vuole avere conoscenza della società l'aggiornamento della visura camerale eh di se per se non riguarda i dati perché poi quei dati lì eh sono praticamente è è come se fosse un documento la visura camerale ma ciò che viene eh reso pubblico in caso di cambiamento ovvero sia a parte che questi eh te pensanti non sanno che l'Inter è un S.P.A. quindi non ci sarebbe nemmeno il passaggio di vuote ma il passaggio d'azione delle azioni loro dicono che il passaggio vuote ma te pensano a gente che ti dice che il passaggio vuote dell'Inter è stato fatto un mese fa non sanno nemmeno che sono azioni che non sono vuote da qui puoi capire quanto possono essere credibili poi ieri sera addirittura eh hanno preso il pegno della glass trust di primo grado di cosa che noi ne parliamo da un anno eh l'hanno preso da Twitter perché questo documento gira su Twitter da un profilo si chiama Vince che io conosco da più di un mese vittoriosi vanno in live e fanno vedere il pegno della glass trust sono talmente ignoranti che facendo vedere il pegno de della glass trust praticamente non hanno capito che si sono dati la zappa sui piedi da soli perché la prima cosa che va a cascare in caso di passaggio di azioni sono proprio i pegni come quando eh questi dicono che OCT è stata liquidata OCT non è stata liquidata perché ad oggi nella visura camerale dell'Inter risulta ancora il pegno sia di glass trust che di OCT e qualora ci fosse stato non il passaggio di quote seguimi ma il passaggio delle azioni nella visura camerale tramite la camera di commercio sarebbe stato reso pubblico in cinque e sette giorni lavorativi quindi questa gente parla di passaggio di vuote avvenuto un mese fa non sapevano che l'Inter era un SPA ma non sanno che ci sarebbe che in caso ci dovrebbe essere un passaggio di azioni e che entro cinque e sette giorni sarebbe segnato sulla visura camerale dell'Inter che è un documento ma viene proprio eh vengono cambiati determinati parametri proprio in caso di passaggio delle azioni quindi voglio smentire per l'ennesima volta questa fake news clamorosa non c'è nessun passaggio di azioni scaricatevi la visura camerale dell'Inter chiedete ad un commercialista se vi sto dicendo delle fandonie questa gente è a rantolo oltre a fare furti di identità su youtuber questa gente è a rantolo vedere gente che a malapena riesce a disegnare una A con un bicchiere parlare di finanza ieri sera è stata cambiata la finanza italiana ragazzi ieri sera è stata cambiata la finanza italiana hanno cambiato le leggi della finanza loro dall'altro si inventano cose che io non ho mai detto ma per chi mi conosce non c'è bisogno nemmeno di dirlo si inventano come fanno i profili falsi e fanno furti d'identità si inventano cose che non esistano questi personaggi veniamo alla partita c'è un giocatore che mi preoccupa se va dalla parte di bisseg se gioca bisseg ha maggior ragione ci deve essere darmian che in fase difensiva da una mano a questo ragazzo perché questo ragazzo sta crescendo anche in fase difensiva e dà la fortuna di respirare i movimenti difensivi di darmian sul campo e non di vederli dalla panchina o dalla televisione perché un conto è imparare i movimenti difensivi di un compagno respirandoli sul campo e un conto è vederli dalla panchina sono abbastanza fiducioso perché faccio un esempio bastoni a livello difensivo è tornato ad alti livelli bastoncino è tornato lui perché ha avuto un calo sempre per quanto riguarda la fase difensiva cioè il centrocampo gira bene sia che gioca Carlos Augusto che De Marco secondo me non cambia molto perché se gioca Carlos perdi un attimino in qualità ma lo ha acquisisci in dinamismo in fase difensiva quindi perdi un po' da una parte ma acquisisci da un'altra Carlos Augusto lo sapete ragazzi ne parlavo dai tempi erano sconosciuti da quando era uno sconosciuto al Monza e dicevo lo volevo all'Inter Carlos è un grande giocatore fidati poi davanti secondo me Turam nello stretto può fare bene può creare problemi a Genova no che poi una squadra chiude si riparte Arnatovic Arnatovic può fare bene solamente in un caso giocando in riferimento di compagni perché non ti può dare dinamismo gioca da fermo Arnatovic però con la palla tra i piedi tecnicamente può fare bene può aiutare gli inserimenti ti può tenere la palla cioè è quello che deve fare Arnatovic lo sappiamo tutti e non è mai stato un bomber quindi ecco io penso che questa partita non vedo insomma grandi grandi scalini da 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 saltare poi è normale la palla le tonda può succedere di tutto però ecco l'Inter la vedo bene andiamo sul pezzo c'è una bella armonia eh Turam ragazzi Turam senza Lautaro dura fatica avevano trovato dei meccanismi con Arnatovic non hanno mai giocato eh nell'ultima partita si sono anche un po' pestati i piedi per quello che riguarda la profondità e l'area di rigore anche se è Arnatovic da un po' di profondità perché gioca da fermo ti dà profondità se rimane lì capito che ti voglio dire però dai io sono fiducioso allora io ripeto chiudendo il video non esiste nessun passaggio di quote esistano un passaggio delle azioni perché l'Inter è un SPA scaricando la misura camerale dell'Inter fatelo fatelo costa pochi euro troverete tutti i pegni pegno Glastras pegno Optri qualora fosse stata rifinanziata non ci sarebbe più il pegno di Optri e non sarebbe non ci sarebbe nemmeno il pegno di Glastras i pegni sono tutti di la misura camerale dell'Inter è invariata e in caso ci fossero stati dei passaggi di azioni non di quote perché l'Inter ripeto è un SPA sarebbe stato comunicato tramite la camera di commercio alla misura camerale in cinque sette giorni lavorativi ma questi vogliono trovare il bilancio di Grand Tower della misura camerale dell'Inter secondo te quanto possono essere credibili questi che a malapena sanno leggere e scrivere non è un'offesa è la verità l'avete detto voi stessi gente ti dice c'è stato il passaggio di vuote un mese fa e fa vedere il pegno della Glastras cioè si si umiliano da soli questi cosa possono sapere questi secondo te ciao Inter grazie a tutti